... Dove diavolo si è cacciata? Riley? Riley? Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDNA e continuiamo le avventure con questo quarto appuntamento di The Last of Us Left Behind Vediamo un po' cosa ci aspetta Vi aspetto alla fine Ciao ciao e buona visione Oh, hai mai visto nulla del genere? L'argomento è già chiuso? Non lo so, lo è? Non sei tu che devi arrabbiarti con me Sono io quella arrabbiata E per cosa? Perché ho chiesto il tuo parere? Da quando in qua ti importa di quel che penso? Stavamo bene Stavamo più che bene Poi mi hai mandato a fanculo e sei sparita nel nulla Questa giornata insieme Ti sentivi in colpa? Vuoi una scappatoia? Te la sto dando io Dovrei essere rinchiusa dalla parte opposta della città Se mi prendono, ora che sono una luce, sono morta Non ho attraversato una città piena di soldati per il senso di colpa E sì, ho commesso degli errori a cui non so come rimediare, ma... Ci provo A proposito Le pistole ad acqua che ti piacevano tanto Ho rischiato la vita per queste Sorpresa Ok Prima... Ti distruggo Poi parliamo Sto per farti la doccia Lo vedremo, eroina delle luci Hai già paura? Ellie, forza Oh, questa è la pagina Rassegnati, Riley Il diavolo Oh, cavolo Sono piga Ti ho asfaltata Cosa? Ma se mi hai appena sfiorata Sei fra, dice Ok Conta fino a cinque Io mi nascondo Poi ci diamo la caccia La prima che viene colpita Ha perso Ci sto Chiudi gli occhi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei pronta? Cazzo Ok Ok, fine dei giochi Ok Al meglio delle tre La rivincita D'accordo Vai Uno Due Tre Quattro Cinque Pronta a morire Pronta a morire Ehi Non esagerare L'hai voluto tu Rivincita Riley Io continuerei per tutto il giorno Ma devi rientrare Devo rientrare Ok Va bene Posso accompagnarti? Direi di sì Dai Prendo lo zaino Ehi Senti Prima l'ho detto da stronza Ma Ero sincera Devi andare Intanto è una cosa che sognavi da Beh, sai È da sempre Per cui Ci sono per fermarti L'unica che può farlo? No Ti prego Non andare Sarei disperata Senza di te Me la caverò E tu te la caverai E un giorno ci rivedremo Queste tienile tu Non mi serviranno molto Hai ancora quel Walkman? Sempre Fa vedere Tieni Che c'è dentro? La tua cassetta Saresti davvero disperata senza di me Smettila Lascialo Seguimi Dove andiamo? Vedrai Sì Che fai? Sei serio? Vieni Porta qui le chiappe Che cosa stupida Andiamo Dai Che succede? Ehi Che c'è? Non andare Scusami Per cosa? Ora che facciamo? Troveremo un modo Ma non credo che Marlene esulterà Aspetta Riley! Dai 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.